Ciao ragazzi, in seguito ai vari problemi di Android Wear 2.0 vediamo la procedura per riportarlo alla versione 1.5, quindi un downgrade. Come vedete devo andare nell'impostazione di sistema, sotto informazioni, dobbiamo abilitare la modalità sviluppatore, quindi premete continuativamente su numero build, ecco qua, ora siamo diventati sviluppatori, infatti se torniamo indietro di due livelli sul menu, ecco qua, opzioni sviluppatore. Ci entriamo dentro e abilitiamo la modalità debug adb, chiede conferma quindi gliela diamo, se dalla vostra console adb vedete unauthorized, quindi non autorizzato, è perché sul schermo dell'orologio dovete consentire, magari sempre, meglio, da questo computer appunto il debug adb. Ora se riproviamo nuovamente su adb devices vediamo che effettivamente compare in lista il nostro dispositivo, quindi facciamo adb reboot bootloader per riavviare il nostro dispositivo in modalità bootloader con fast boot. Ed eccolo qua, vedrete, è tutto miniaturizzato ma tang, lock state, locked. Da qui possiamo vedere che ciò che dobbiamo fare è sbloccare il bootloader, quindi fast boot devices, confermiamo che effettivamente c'è ed è qui ed è l'unico device collegato, e fast boot OEM unlock. Da qui parte una procedura sullo schermo dell'orologio, ed è qui che dovete premere tasto freccia destra e poi il centrale per dirgli ok, conferma lo sblocco. Come vedete cancella il contenuto della memoria e rifrescia un paio di cose perché sbloccare il bootloader comporta questo, reboot, ed ecco qui che si riavvia. Quello che ci troviamo adesso è un lucchetto sbloccato durante la fase di boot, rimarrà sempre sbloccato finché non torniamo eventualmente a ribloccarlo, ma non è assolutamente necessario. Si riavvierà un paio di volte, come vedete, ecco questo è già il secondo riavvio, tagliato chiaramente molto sui tempi, non aspettatevi niente di meno che una bella attesa. Adesso dobbiamo riabilitare molto velocemente il debug adb, come abbiamo fatto prima, ora il debug adb devices, e ripetiamo la procedura di prima, quindi riavviamo l'immunità bootloader, ed ecco qui, unlocked. Perfetto, questa è la prima fase. La seconda fase sta nel flashare con un wipe, quindi come avete visto il comando che ho dato, fast boot-v, e sul orologio compare intanto erasing, downloading, erasing, downloading, eccetera, eccetera, writing. Al termine di questa procedura, siamo pronti a flashare le vere e proprie immagini che scarichiamo dal sito che vi metto nella descrizione. Fast boot, flash boot, e poi chiaramente l'immaginina con il prefisso e che finisce con boot, naturalmente. Fast boot, flash, recovery, e poi l'immagine di recovery, come potete immaginare. E intanto che fate queste cose, questo è quello che si vede sull'orologio. E fast boot, flash, system, la prossima cosa, eccolo qua, fast boot, flash, system, chiaramente anche qui, m1, bla bla bla, system, punto img. Poi sul contenuto da scaricare metto il link in descrizione anche a seconda del vostro modello. E infine fast boot, reboot, dove vedremo comunque riavviare il dispositivo in automatico. Ecco qui, sto facendo il boot di Android e come vedrete ci metterà parecchio parecchio tempo, ma non vi spaventate, è del tutto normale, perché al termine, eccolo qui, Android Wear 1.5, è tornato, ben tornato. Ah, caro amato, my beloved, Android Wear 1.5 che funzionavi bene e non avevi nessun genere di rallentamento. Oh, mi sto commuovendo. Oh, mi sto commuovendo.